Chiamo Diana Rossi Diana Rossi che intanto ricordiamo naturalmente ogni artista presenterà degli inediti quindi la giuria voterà, la votazione a punteggio va da un minimo di 5 a un massimo di 10 voti Bene arrivata, sei emozionata perché sarai tu ad aprire questa serata così importante e prestigiosa di Premio Lucio Dalla. Allora Diana e tu arrivi da? Arrivo da Como Come mai ti sei avvicinata a Premio Lucio Dalla? Ma ne avevo già sentito parlare quindi abbastanza rinomato da qualche anno ho incominciato a collaborare con un team proprio di uno studio di Como che si occupa di brani inediti e quindi ho voluto portare uno degli ultimi brani da poter presentare un po' al mondo Beh anche perché questa è proprio una manifestazione invincibile invincibile insieme quindi ho preso anche spunto un po' dal titolo della tua canzone Per il titolo del brano Perfetto, allora a te l'onore di aprire questa ottava edizione di Premio Lucio Dalla Diana Rossi Diana Rossi, invincibili insieme Ricordi i primi sguardi Fiori di carezze passeggiate dagli occhi ai nostri cuori e adesso dimmi cosa sei diventato Presentami la tua nuova vita e raccontami ogni lacrima ogni tuo sorriso Che ti ha portato a rincontrarmi proprio qui Qui dove il tempo si è fermato un attimo solo per noi Che siamo futuro grazie a quel passato Che siamo noi grazie a ciò che è stato Ricordi quelle notti passate tra pensieri e turbamenti E tu stringevi quel cuscino quando io non ti ero più vicino Quando lei ha realizzato i nostri sogni e di miei respiri erano ancora battiti del tuo cuore E adesso dimmi se c'è ancora tu se mi vedi Ancora come quella donna con cui passavi Le notti solo a parlare con le tue mani Perse tra le mie con le tue labbra così lontane dalle mie E adesso dimmi se c'è ancora tu Mostrami quegli occhi che mi facevano amare la vita E accarezzami il cuore nelle mie cicatrici Come non ha saputo fare nessuno dopo di te Ora dimmi se possiamo ancora volare Se possiamo ancora farci male ed essere invincibili Insieme 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 Passata l'emozione! Sei stata la prima proprio ad aprire ufficialmente questa ottava edizione Grazie 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 Grazie